Nel senso che mi hanno detto che come fanno i cori a Siracusa, il pubblico di Siracusa non li fa nessuno, non dico in Italia, ma nemmeno in Europa, è vero, appunto, alcuni hanno buttato lì una cosa che avvigevano, c'è qualcuno che fa i cori, ma io non ci credo, poi comunque, ecco, non c'è nessuno di vigevano qua che si può offendere, questi dirigevano, ma che vogliono? Allora, il coro ci serve per la prossima canzone, ed è un coro semplicissimo, adesso la band annuncerà, presenterà il tema, sono poche note, quante note sono, Premiano? Tre. Ah, stasera mi hai stupito, ti sei risparmiato proprio, ieri sera, l'altro ieri sera qui, erano quattro, stasera sono tre, domani saranno due, è certo, ma vabbè, mi raccomando, non fate finta di cantare, perché a un certo punto io faccio una cosa che vi svela, se cantate o no, attenzione. BAN BAN BAN, BAN BAN, BAN Oh, è vero. Sì La prima classe costa mille lire, la seconda cento, la terza dolore spavento e puzza di sudore dal bocca a porte, odore di mare morto. Signor capitano mi stia a sentire, ho belle pronte le mille lire. In prima classe voglio viaggiare su questo splendido mare. Ci sta mia figlia che ha 15 anni e da Parigi ha comprato un cappello se ci invitassi al suo tavolo a cena stasera come sarebbe bello. E con l'orchestra che ci accompagna, con questi nuovi ritmi averigliani saluteremo la Gran Bretagna con i bicchieri fra le mani e con il ghiaccio dentro al bicchiere faremo un brindisi pittinante a questo viaggio davvero mondiale e a questa luna in cicafe. Ma chi ne ha detto che in terza classe, che in terza classe si piange male? Questa cucetta sembra un letto a due piazze, ci si sta meglio che in ospedale. A noi cafoni ci hanno sempre chiamati, ma qui ci trattano da signori che quando piove si può star dentro ma col bel tempo veniamo fuori. Su questo mare nero come il petrolio, ad ammirare questa luna a metallo e quando suonano le sirene ci sembra quasi che cambi il gallo. Ci sembra quasi che il ghiaccio che abbiamo nel cuore, piano piano si possa sbagliare in mezzo al fumo di questo vapore, di questa vacanza in alto mare. E gira, 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 gira l'elica, e gira, gira che piove edica per noi ragazzi di terza classe, che per non morire si va in America. Questa cucina Questa cucina